Fausti ha letto di presentare al pubblico la nuova arma dedicata al tiro-volo. Si chiama XF4 ed è un'arma molto particolare. Chiaramente viene fatta per tutte le discipline sportive, dallo sporting al double trap all'elica allo skid. Le caratteristiche principali di quest'arma è la scelta della bascula, la bascula corpo rotondato, giusto per dare il peso adeguato ad un'arma da tiro. Il peso principale è nella bascula, con il corpo rotondato, massiccia e, come in questo caso, la nostra proverbiale chiusura 4-locks ha un senso di esistere, nel senso che è una chiusura che permette di rendere l'arma particolarmente robusta negli anni, perché un tiratore medio spara dai 15 ai 20 mila colpi all'anno. e una chiusura brevettata con 4 punti di tenuta unita al tassello e ai due perni cerniera di fatto diventa un'arma davvero molto resistente. La componentistica, quindi il gruppo di scatto interno della bascula, è composta da pochissimi pezzi, quindi è un meccanismo davvero molto semplice. Tutti i particolari sono fatti dal pieno. Per quanto riguarda le canne, hanno ovviamente delle geometrie particolari in funzione della disciplina che andremo poi a intraprendere, quindi delle sovralesature, dei coni di raccordo particolari in funzione di ogni disciplina. I calci sono rigorosamente fatti su misura, come del resto è da etichetta fausti. Tutte le nostre armi vengono vendute direttamente al pubblico con un calcio fatto su misura. Questa è la particolarità dell'arma, un'arma estremamente bilanciata, molto dinamica. Viene fatta sostanzialmente in tre versioni, la versione che ho in mano è la Platinum, poi c'è anche l'XF4 Gold e l'XF4 Black. Il nuovo sovrapposto Fausti XF4 è un'arma decisamente solida e affidabile per la pedana ed è quindi rivolta al professionista che vuole aumentare le proprie performance in pedana, ma anche per il rapporto qualità-prezzo al principiante, a chi vuole intraprendere la nuova disciplina del tiro-volo con un'arma accessibile per quanto riguarda il prezzo, ma decisamente robusta e affidabile per far sì che quell'arma lo accompagni fino al mondo professionistico. Grazie a tutti.